Andanovic titolare, San Siro e lo accolgono con un applauso. E' riapparso titolare a San Siro, e con la fascia da capitano al braccio, 140 giorni dopo l'ultima volta. Samir Andanovic era stato nell'undici iniziale nerazzurro il primo ottobre per la gara casalinga di Serie A persa contro la Roma, 2 a 1. Una prestazione, la sua, non certo memorabile perché sull'1 a 1 di Dybala non era stato impeccabile. Da allora in poi Inzaghi aveva fatto una scelta ben precisa puntando su Andreonana. Samir, da uomo spogliatoio e grande professionista, l'ha accettata anche perché ha dovuto fare i conti con due infortuni. Ha un dito di una mano e ha un polpaccio che per qualche settimana lo hanno costretto a non allenarsi o a lavorare a parte. Da una quindicina di giorni, però, sta bene e così, nel match precedente l'andata degli ottavi di Champions di mercoledì. Il tecnico di Piacenza ha deciso di allargare il tournover anche tra i pali. Andanovic è sceso in campo per il riscaldamento alle 20, 10. Dopo che si erano spente le luci del Meazza ed era partita a tutto volume la musica che segna l'ingresso della squadra. Lui era il primo della fila e ha guidato i compagni. È stato accolto dall'applauso di tutto lo stadio, presente uno spettatore d'eccezione con il conduttore del festival di Sanremo. Amadeus, che ormai sapeva che avrebbe rivisto il numero uno tra i pali. Come da prassi. Lo sloveno non ha tradito la minima emozione. Ha saluto con la mano verso le tribune e poi si è messo a fare il consueto riscaldamento nella porta sotto la curva Nord insieme a Onana Kordaz. Il fidato buon aiuti a guidarlo negli esercizi e lui con la solita maschera. Concentrato come non mai. Come se avesse giocato l'ultima gara ieri. E invece una partita ufficiale non la gioca da quattro mesi e mezzo. Tantissimi per chi, come lui, dal 2012 a oggi con la maglia dell'Inter ha totalizzato 447 presenze e prima di questo 2022 a 23 non era mai sceso sotto le 37 presenze stagionali. Quella di stasera è la nona. Un fatto non certo comune. La gente lo ha capito e la Nord ha riservato il primo coro a lui. Che ha applaudito e ringraziato. Samir è tornato almeno per una notte al suo posto.